Questo anno abbiamo presentato molte notizie, davvero una bomba. Possiamo iniziare da una nuova collezione di luci, che poi saranno presentati da Pasquale Natuzzi Junior, per passare a molte nuove sofà, molto interessante. Dopo questo, nuove tavole, nuove stelle, e una completa nuova collezione per la casa completa. Natuzzi è un look total. Ora possiamo iniziare dal sofà Poliziano, un sofà molto interessante. Questa è una bomba, specialmente per il mercato russo, dove il nostro cliente piace molto, per mixare il stile classico e il stile moderno. Quindi, questo è Poliziano, un modello molto comforzato, alta qualità, un design molto interessante, e un fantastico letter. In Tutsi Italia, approccio alla collezione di luci, al mondo del niente e dei luci. Abbiamo studiato molto le necessità del mercato, e abbiamo capito che il nostro consumatore bisogna comprare, non solo i lavori, i sofà, i couchi, e tutto il tutto il vivimento. Abbiamo proposto, ma anche i lavori. Per modificare la colora del luci, la lettera del luci, il modello del luci, il modello del luci, il modello del luci, il couch, i sofà. Questo è quello che hanno fatto. Abbiamo sviluppato, in un anno, per sviluppare la collezione di 6 bed, che è composta da alcuni bed, designati da molti famosi italiani, come Claudio Bellini, e alcuni altri. Abbiamo sviluppato un progetto molto speciale con Vogue Italia, che ha sviluppato con noi una collezione di 50 bed, edizione, che avremo a lanciare in una speciale event in Milano. Il nome dell'evento è Dress Your House As You Dress Yourself. Il progetto è di dare le persone l'opportunità, l'estetica sensazione che hanno in loro modo di dressare, per mettere in casa. Inoltre, siamo quasi pronti per lanciare la collezione nel mercato russiano, che per noi è molto importante. Il lanciare del luci è un'opportunità che i nostri consumatori in Russia hanno fatto per noi. Ci sono necessari i lavori, i lavori e anche le lavori e la notte. Questo è qualcosa che abbiamo sviluppato ancora più per il mercato russiano e in pronto lo troverete nelle nostre storie.